buonasera a tutti e grazie per essere eh a questa nuova puntata di Liberi Libri che con grande piacere si sposta al eh al Castello del Valentino perché vuol dire che anche eh eh coloro che sono interessati alle culture architettoniche si stanno mobilitando per eh la salvaguardia e la crescita di questa serie che in effetti va molto molto bene di cui sono molto eh contento sono molto orgoglioso. Questa sera sono particolarmente poi orgoglioso perché devo eh dire la verità non di solito queste mie presentazioni sono oltre che molto brevi sono anche molto neutre perché ovviamente poi non non sempre eh mi capita di presentare libri di cose a me affini ma invece questa sera sì perché il libro che siamo per presentare cioè studiare Roberto Gabetti è dedicato a eh una delle due persone è curata dalla l'altra delle due persone con cui sostanzialmente ho imparato a far storia quando sono arrivato qua a Torino molti molti anni fa perché ehm come qualcuno di voi sa eh ho la mia tesi è stata eh diretta da Carlo Olmo ma molto seguita anche da Roberto Gabetti che per me eh è chiaro che è sempre stato un architetto l'architetto famoso insieme a Dai Maro Isola ma eh per me è sempre stato prima di tutto uno storico insomma abbiamo sempre avuto eh scambi eh eh in dottorato su questi temi di storia non mi è mai capitato di parlare eh con Roberto Gabetti delle delle sue architetture eh il libro è eh molto importante nasce all'indomani eh di un convegno eh di un convegno organizzato eh con la solita grinta che gli conosciamo da Carlo Olmo praticamente in piena pandemia insomma subito dopo il lockdown quindi con qualche difficoltà ma che riuscì abbastanza bene tant'è vero che poi eh se ne sono tirate le fila molto rapidamente eh ricontattando coloro che avevano partecipato alla alla giornata di studi a vent'anni dalla morte di Roberto Gabetti eh chiedendo poi l'aiuto di eh due giovani eh eh dottorandi all'epoca dottorandi eh anche adesso per la verità dottorandi eh eh che eh Roberto Gabetti non hanno mai conosciuto ma che hanno contribuito non soltanto poi a pubblicare il libro ma anche a ehm perpetuare diciamo così l'eredità di Roberto Gabetti e sono Marco Corona e Lidia Preti eh con noi ci sono il curatore naturalmente eh Carlo Olmo ehm c'è eh l'editore del libro che è Emanuele Orazzi il curatore della collana per Codlibet che è Emanuele Orazzi e eh e poi due allievi della scuola torinese eh di generazioni eh diverse non tanto diverse ma un po' diverse che sono no non tanto diverse che sono Paolo Scrivano e e Daniele Campo Benedetto. Eh io direi che la 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 prima parola va eh ovviamente a Carlo Olmo che ci racconta un po' cosa c'è in questo libro, cosa si trova eh al di là eh di del del convegno a cui probabilmente molti di voi eh hanno partecipato e e e cosa possiamo ancora aspettarci dallo studiare Roberto Gabetti. Carlo. Grazie Sergio. Spero che la mia voce non sia al solito. Lo avvicino drasticamente a me spesso. Questo che è un piccolo libro all'apparenza quasi un libro che si può dimenticare. In realtà ha molte ambizioni alcune delle quali è riuscito a rispondere altre no. Innanzitutto perché un libro dopo venti quasi ventun anni e mezzo dalla morte di Roberto si intitola Studiare Roberto Gabetti come se non fossero usciti una tutta una serie di testi, convegni, articoli su di lui. Perché io credo che al di là del fatto che noi stessi abbiamo fatto una scelta di fare questo primo libro su Roberto e Aymaro come progettisti e poi faremo un secondo momento su Roberto come storico che non abbiamo che Sergio credo si curerà di organizzare visto che io sono troppo coinvolto con Roberto Gabetti storico. La prima cosa l'ha già detta Sergio. Questo libro vi propone, propone a chi lo legge, dei punti di vista che sono di generazioni profondamente diverse. Perché i dottorandi che hanno curato il lavoro di questo libro, hanno ottenuto i rapporti con la casa editrice, sono trentenni adesso, no forse, non hanno neanche ancora concluito trent'anni, sono sulla soglia dei trent'anni. Poi Daniele ha trentasei, il mio amico Paolo Scrivano ne ha cinquanta e qualcuno. È come una donna, non si possono dire gli anni. Giovanni Urbiano non è tanto lontano, non è certo, magari. Michele Bonino ne ha quasi cinquanta, siamo sulle soglie dei cinquanta e il sottoscritto ne ha settantotto. Quindi sono occhi di persone che vanno dall'aver studiato con lui, aver imparato da lui cos'era l'architettura, perché io manco sapevo cosa fosse quando lui mi ha chiamato a scuola, fino a persone che non sapevano neanche chi era una figura mitologica e mitografica. Quindi già questo è una cosa importante. Parlando con Aymaro stamattina, che non potendo venire, ha trasformato me nella sua voce, Aymaro mi ha detto la cosa più bella è la gioia che bisogna provare e che ci ritroviamo a parlare e a discutere di Roberto. Condivido molto questa cosa, condivido molto il fatto che sia necessario non solo mantenere la memoria, la memoria si mantiene solo fino a quando di una persona si parla, ma soprattutto studiare. Perché dico questo? Perché in realtà gli articoli che sono presenti nel testo mettono in luce proprio se si vuole avvicinare davvero la progettazione di Roberto e di Aymaro bisogna cominciare a mettere le mani, a parte nell'archivio loro, proprio nei processi che sono diversi nel tempo che hanno seguito per arrivare a asie diverse della loro attività professionale. E quindi questo lavoro, che è un lavoro faticoso, che nel libro è stato sviluppato sia da Alessandro Armando che è dietro la mia schiena, da Michele Bonino, è stato un po' scansato da Giovanni che ha preso invece un aspetto importante della personalità di Roberto che è il Roberto pubblico e è presente un po' in tutti i saggi, ma come un inizio, come uno spunto, come il fatto di dire guardate che bisogna cominciare dalle sezioni per studiare le architetture di Roberto e Aymaro. È un punto di vista importante, ma non è certo il solo. Una delle cose che mi ha sempre colpito di più, io poi sono stato nel loro studio in tutte le epoche, da quando erano loro due e la segretaria non c'era neanche ancora quello che li accompagnerà in questa vicenda. E fino agli ultimi, all'ultimo progetto che hanno fatto assieme, quello che mi colpiva era questo dialogo continuo in cui i ruoli non erano predeterminati. Ed è difficile restituire progetto per progetto dei dialoghi che alle volte cominciavano con uno schizzo di Roberto e alle volte cominciavano con un'idea di Aymaro. Prendendo poi strade nel percorso che ogni progetto conosce, dall'incipit poi all'entrare nel merito del progetto stesso, al confronto via via con tutta una serie di personaggi, oggi purtroppo la maggioranza mancati. Io mi ricordo il più divertente di tutti per me è stato, per me soggettivamente, ma per come è stato era quello con Bodino padre e il signore che fa le... quando è andata alla bottega d'Erasmo, le ringhiere della bottega d'Erasmo sono state fatte da Bodino. Bodino si doveva laureare con Gabetti e poi ha messo su la Bodino, fin quando la Bodino è stata quello che è stata prima di fallire, prima che lui se ne andasse a Parigi a farsela bene e la sua impresa andasse a Ramengo. Quindi noi abbiamo una serie di percorsi che sono accennati con delle chiavi che sono proposte, come ci sono dentro il libro, me l'ha detto Manuel, ma è vero, degli, non solo nel mio saggio, ma anche in alcuni altri saggi, degli accenni e questo ci dice una cosa fondamentale. Se fosse così consolidato la conoscenza dei progetti e delle opere, che non sempre coincidono ovviamente neanche nella temporalità, noi non ci troveremo in questa condizione. Noi sapremo tutto, sapremo... bisogna dire una cosa importante che molti di voi conoscono perché hanno conosciuto quelli che erano, sono stati allievi di di Roberto e di Imaro, che loro nascondevano, occultavano il modo, volontariamente il modo con cui con cui progettavano. E persino con me, che poi era un po', quando ho scritto il libro su di loro con le guasci presenti che a Imaro mi faceva, mentre io scrivevo a fianco, ironicamente, prendendomi in giro, e loro non ti... neanche a me dicevano, io poi provocavo, scrivevo, ma guardate che scrivo che questo l'idea è stata di... e invece poi il portarla al livello di... il primo esecutivo è stato di... e questo tentativo di trasformare loro in una... in un regime di autorialità non funziona. è tutta la storia dell'architettura nostra, che è una storia che si fonda sul concetto di autorialità, no? Si fonda sul fatto che la nostra storia dell'architettura è costruita sugli autori, non è costruita sui processi che hanno portato dai progetti alle opere. è costruita sulla firma di... e in questo caso, ancor più che negli altri casi, occultando loro scientificamente il progetto, il processo che avevano seguito, neanche Migre sarebbe riuscito a entrare e a sciogliere gli indizi e trasformarli in prove. e quindi noi ci troviamo davanti ad una complessissima serie di rapporti, poi mano a mano coinvolgono i rei neri, coinvolgono gli altri, non voglio fare una conferenza, anche perché io sono quello che apre la discussione, non che la chiude. tutta una serie di altri soggetti che con loro hanno dei rapporti, fino a Giovanni D'Urbiano che è stato suo e mio dottorando, durante il dottorato di storia, perché nonostante quello che adesso faccia, faccia un quasi filosofo e un storico di formazione e lui negherà in ogni modo questa sua paternità, ma questo è stato... Io credo che oggi siamo veramente a avviare, con delle ipotesi che ci sono molto forti dentro questo piccolo libro, non solo l'indagine, come chi lo chiamerebbe Maigret, sui progetti e sulle opere di Roberto e di Aymaro, ma con questo stesso principio, provare a dirci, ma noi restituiamo davvero un'architettura? Ora restituiamo solo l'immagine, ora restituiamo solo l'autore, ora restituiamo solo la ricezione che ne fa una critica che oggi è uscito, potrei aprirvelo e farvelo vedere, questo catalogo che ci ha impiegato a uscire dal 2002 ad oggi, che hanno 20 anni, in cui ci sono le architetture che la Lora Dark aveva chiesto di selezionare, tra le architetture che le ha partecipate a quella su Torino che io ho coordinato, e che loro non so come, perché anche questa è una cosa tipica italiana, ma oggi pubblicano, oggi pubblicano questo Atlante dell'architettura, è tutto per nomi, è il contrario di quanto noi avevamo voluto che fosse, è tutto per nomi. Ancora oggi c'è il massimo organo, che è nostro, che è il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, che quando produce questo Atlante, lo fa indicando l'autore. Lo fa per autore, se voi fate una ricerca diversa che per autore, potete farla per luoghi, ma non ci aiuta molto. Questo libro smonta, inizia a smontare un meccanismo che è assolutamente imperante nelle facoltà di architettura, perché le facoltà di architettura sono facoltà tra l'autoriale e il mitografico. Questo libro non è questo. E qui mi fermo e vorrei dare la parola a Paolo Scrivano, che è seduto vicino a me, che rappresenta la prima generazione. No, la prima generazione sarebbe stata avere qua De Magistris, ma De Magistris è inafferrabile, quasi come i sogni che facciamo. Avrebbe negato. A tarda, a tarda. No, lui è stato il primo. No, no, lui avrebbe negato. No, ma lui è stato, sono stati tre i primi che si sono dottorati in storia dell'architettura po-tecnico di Torino nel 1984. Uno dei tre era Alessandro De Magistris, che ha fatto questa tesi sulle città sovietiche. Poi, non dico gli altri, perché continuerei a rubare tempo. Ok, sì, sembra funzionare. Sulla questione delle generazioni, poi ritornerò tra un attimo. Inizio ringraziando tutti, ringraziando gli organizzatori per l'invito, il curatore e curatori del libro per il volume, che ho letto con grande interesse, cercherò di spiegare tra un attimo, perché vorrei iniziare dicendo che, a me sembra che il titolo sia esplicito, studiare è un invito. Non è un quadro dello stato della conoscenza sull'opera e il lavoro di Roberto Gabetti, che secondo me rimangono, senza nulla togliere ciò che è stato fatto finora, rimane ancora una figura molto, posso dire, misteriosa, molto ancora da comprendere e da scavare. Quindi studiare lo vedo come un invito, un invito soprattutto alle generazioni future a intraprendere delle possibili direzioni di ricerca. non voglio parlare di me, ma devo dire un paio di cose sulla mia collocazione, perché io non sono stato un allievo di Roberto Gabetti, non ho seguito nessuno dei suoi corsi, quando erano offerti, quando ero studente al Politecnico di Torino, sono stato studente di Aymaro Isola piuttosto, che fu tra l'altro un'esperienza di occultazione delle fonti estremamente stimolante. Non sono ovviamente, per ragioni di generazione, non sono stato un collaboratore. Non appartengo alla quinta generazione, come Marco Corona e Lidia Preti si definiscono. L'ho trovato, lo dico sorridendo, molto divertente. La quinta generazione mi fa pensare a un aereo militare, che in caccia di quinta generazione sono invisibili, spero che questa quinta generazione sia visibile. Quindi io appartengo, sono un po' una figura ibrida, perché in realtà sono cresciuto dentro questa scuola, proprio negli anni in cui c'era Roberto Gabetti, in qualche modo vicino a lui, vicino alle cose che faceva, senza però mai diventare un suo allievo. Se proprio dobbiamo dare una, ci pensavo ieri, se proprio devo definire la generazione a cui appartengo, sarei la dritta generazione di Fasbindra, che è un gruppo di terroristi maldestri, bislacchi. Quindi forse un altro qua. Quindi, ma dico questo perché in realtà, pur non essendo stato un allievo, sono cresciuto in una facoltà di architettura che era, nella quale la presenza di Roberto Gabetti era molto sentita e molto forte, anche se, come nel mio caso, le interazioni con lui sono state molto limitate. Dico solo, mi permetto solo di accennare a un aneddoto, che è una delle poche interazioni che ebbi con Roberto Gabetti, fu quando Carlo descrisse a Gabetti il tema della mia tesi di dottorato, che era uno storico dell'arte e dell'architettura americano, che si chiamava Harry Russell Hitchcock. E Gabetti commentò dicendo, ah, però questo Hitchcock pensavo fosse uno zuccone. E che fu, vuol dire, per me che sono torinesi, era un modo molto, molto, diciamo, understated, per dire, non credo che questo tema sia di grande rilievo. Ciò nonostante, io l'appresi bene, non mi offesi, la trovai molto divertente, trovai molto divertente il commento, ciò nonostante continuai a fare la tesi sullo stesso tema, non cambiai. Però il fatto è che, malgrado, come dicevo prima, le poche relazioni che ho avuto con Roberto Gabetti, l'ambiente in cui sono cresciuto era imbevuto della sua presenza. Prima di tutto, ad esempio, per me, diciamo, l'aspetto, il carattere, il profilo più importante, quello che ha marcato di più la mia formazione, diciamo, l'aspetto della presenza di Gabetti che ha marcato di più la mia formazione è il Gabetti bibliofilo, quello che tu sottolinei. Perché non è soltanto, Gabetti non è stato solo il direttore della biblioteca, ha costruito la biblioteca. E se nella biblioteca di architettura ci sono delle collezioni rilevanti ancora oggi è perché lui le ha fatte acquistare. E probabilmente perché conosceva anche il mercato dell'antiquario. Ovviamente allora era ancora accessibile, ma se pensiamo alla collezione originale dell'Esprit Nouveau è in biblioteca grazie a Gabetti, credo. Tu lo puoi confermare. E c'eri anche tu, dovresti sapere. Abbiamo le prove che tu lo dovresti sapere. Quindi in realtà la sua presenza, come istituzionale, una presenza pesante, cioè essere stato direttore della biblioteca in quegli anni, ha significato anche dare una direzione culturale alla biblioteca. Costituire la biblioteca come corpus di sapere, fare delle scelte molto precise, molto, qui si potrebbe tornare anche sulla storia, la presenza della storia, attraverso la presenza dei libri di storia, attraverso la presenza dei testi, attraverso la presenza di testi antiquari, ma anche ad esempio di testi, non so, tesi di dottorato di altre università che si trovano in biblioteca. Quindi questa, secondo me, è una cosa estremamente importante. Da questo punto di vista, per me, leggere questo libro è stato anche un po', giuro, questo è il secondo accenno biografico che faccio, però anche una specie di colossale seduta psicanalitica, perché per me che me ne sono andato a un certo punto, da Torino, dall'Italia, sono tornato a Milano solo di recente, è un modo per rivisitare quegli anni, per capire delle cose che non avevo neanche completamente capito, perché ero uno studente, ero giovane, ero abbastanza naiv, ingenuo, non sono migliorato molto, però certe cose mi sono più chiare a questo punto. Quindi, il ruolo di Gabetti, come all'interno dell'istituzione accademica, prima ancora che nella professione, su cui ho meno da dire, secondo me è essenziale. Poi la presenza nel dottorato, presenza che è stata molto importante negli anni in cui io sono stato nel dottorato, in cui noi siamo stati nel dottorato, al di là dei giudizi che poteva dare sui singoli lavori di dottorato, però la sua presenza era significativa anche come contributi intellettuali ed accademici. Nel libro, infatti, si facendo a questa serie di interventi che fece, di cui credo di avere dispense ancora da qualche parte, probabilmente voi le avrete, che furono una serie di lezioni che fece, che andrebbero studiate, andrebbero recuperate e andrebbero magari anche curate e pubblicate, dove Gabetti propose una serie di lezioni su delle sezioni significative, no, temporali, e queste sezioni erano a prima vista curiose per la scelta delle sezioni stesse, per gli esempi che venivano citati, ma in realtà avevano sempre un secondo, un disegno che doveva essere interpretato. E in questo modo era in modo, diciamo, il suo proporre queste lezioni era anche una sofisticata operazione di insegnamento di una metodologia, senza arrivare a dei meccanismi rigidi e non discutibili. Una metodologia che era appunto basata anche per certi versi molto empirica, che io credo abbia dato, abbia influenzato tutti noi, senza dubbio. Perché questo è un altro aspetto importante della presenza di Gabetti, cioè il fatto che il suo modo di lavorare, sia come direttore della biblioteca, sia come presenza nel dottorato, ha lasciato un'eredità che poi si è sviluppata come tutte le eredità in varie direzioni. La biblioteca ha continuato a lavorare con la presenza di altri direttori, ma il solco era tracciato. Molti di questi semi piantati da Gabetti si trovano nel lavoro di molti, a distanza anche di generazioni, anche dopo la sua scomparsa. Ora, l'altra cosa che ho trovato, che trovo secondo me estremamente importante, che andrebbe sottolineata, è il fatto che Gabetti ebbe sempre insistito sul definire il lavoro all'interno del dottorato come una delle possibili diciamo esplicazioni di ciò che lui definiva la cultura politecnica. certamente c'era un disegno politico, evidentemente era come professore del politecnico c'era anche una sorta di rivendicazione di uno spazio per la facoltà di architettura, per un certo modo di fare l'architettura, per il ruolo che alcune figure all'interno della facoltà di architettura cercavano di definire in relazione alle dinamiche molto più ampie di una scuola politecnica che è ovviamente dominata anche numericamente dagli ingegneri. Però c'era anche un progetto diciamo didattico, didascalico, culturale, che credo che abbia formato anche il nostro modo di vedere. Certamente il mio, perché perché ad esempio io quando me ne sono andato dall'Italia e ho lavorato in dipartimenti in paesi al di fuori dell'Europa fondamentalmente, ho scoperto che quanto sia complicato in certi sistemi accademici creare dei dialoghi con altre discipline e quanto sia delicato, difficile e delicato ma anche vitale perché non non si ha possibilità di sopravvivenza in una un'università nordamericana se non si crea un dialogo con i propri colleghi. Io sono stato sia ho insegnato sia in scuole di architettura ma anche in dipartimenti di storia dell'arte e non credete che la vita in un dipartimento di storia dell'arte sia particolarmente più facile rispetto per uno storico, rispetto alla vita all'interno di una scuola di architettura. Nel dipartimento in cui sono stato a Boston c'erano formalmente quattro storici dell'architettura ma in realtà solo due perché gli altri due erano stati assunti per altri compiti e per caso avevano anche un interesse per l'architettura. Questa per me è stata una lezione l'essere fuori dall'Italia essere costretto a uscire dal dalla circolarità e dai confini dei cosiddetti settori disciplinari però in effetti un po' di addestramento io l'avevo anche potuto avere qui a Torino e proprio nel nel dottorato dottorato che anzi c'erano due dottorati allora due dottorati che però erano fortemente dialogici cioè io la mia esperienza non è che voglio perché ci sono anzi Giovanni era nel dottorato di storia però in realtà il il le relazioni tra coloro che erano all'interno del dottorato di storia e coloro che erano all'interno del dottorato di progettazione erano molto intense c'era un continuo scambio di idee io e credo tutti noi avevamo l'abitudine di scambiarci le cose che scrivevamo e di di sottoporre le nostre i nostri scritti anche al parere di coloro che almeno formalmente non appartenevano alla nostra disciplina quindi Gabetti è stato un campione di mobilità tra discipline e secondo me questa è una cosa che va assolutamente non solo rimarcata ma discussa perché mi chiedo se sia ancora possibile oggi questa mobilità tra discipline non sto dicendo che non che non dovrebbe esserci sto dicendo che le condizioni sono diventati tali da generare delle barriere molto più alto rispetto a quelle che esistevano prima quindi questo è veramente un tema assolutamente centrale per noi questo questa necessità di dialogare io un'idea me la sono fatta cioè credo che sia necessario dialogare con le altre discipline ma bisogna anche forse con con qualche equilibrismo bisogna anche essere capaci di rispondere ai propri peers ai propri colleghi nel proprio settore giocare su questi due livelli senza ritenere l'uno più importante dell'altro ma abituandosi a passare o comunque a creare questo passare da un livello all'altro in maniera molto dinamica ed elastica ma questo magari è una cosa che su cui si può ritornare il libro come veniva detto prima è un libro che propone ha come compito di aprire a delle riflessioni aprire delle possibili direzioni di ricerca auspicare che le ricerche delle ricerche vengano compiute in futuro io credo che per quanto si sappia molto di gabetti ci siano ancora molte cose che debbano essere comprese una ovviamente è questo un tema che per me che torinese in un certo punto me ne sono andato è una cosa che mi rimane che mi ronza nella testa da moltissimo tempo è una caratteristica di questa città dove ci sono delle Carlo richiama minoranze autonome dell'elite dei gruppi sociali chiusi aperti a seconda di come li vogliamo guardare e e questo è una città Torino che è estremamente autoriflessiva c'è una città che ha prodotto molto sulla propria storia ma al tempo stesso questo il ruolo che viene giocato da specifici gruppi socio-culturali a cui ovviamente i gabetti e anche Isola appartenevano e la loro interazione con altri gruppi la loro interazione con il discorsi pubblici è ancora tutta da scoprire è ancora tutta da analizzare e non credo sia una sola una cosa cioè credo che Torino abbia delle peculiarità sia una una bestia strana però non è una riflessione su Torino non è una riflessione che deve essere limitata a Torino una riflessione su come gruppi sociali elite culturali interagiscono o meno o diciamo in maniera più o meno solida consistente ricca di conseguenze interagisce con con il contesto all'interno del quale al quale operano all'interno del quale si trovano ovviamente un altro aspetto che andrebbe sviluppato di nuovo Carlo tu parli del ruolo critico e della scrittura critica che di cui Gabetti è un è un è un esempio e questo ovviamente aprirebbe tutto un un orizzonte di riflessioni su ovviamente cos'è la critica cos'è la critica da parte degli architetti in che modo il diciamo il la scrittura critica degli architetti arriva o non arriva a parlare con altre discipline con altre specializzazioni e questo è secondo me mi sono occupato negli ultimi anni di storia della critica è un tema centrale cioè quello che definisce la critica è anche la sua relazione o mancanza di relazione con altri ambiti e infine io questo nome l'ho assegnato nelle mie note è ovviamente la questione dell'autorialità che è latente e l'elefante nella stanza per noi che ci occupiamo di storia dell'architettura noi continuiamo a parlare di storia dell'architettura attraverso figure eccellenti prescindendo completamente dal processo sia di progettazione che di costruzione degli edifici quasi pensando che ci sia una connessione diretta tra architetto ideatore e oggetto e tra l'altro oggetto neanche consideriamo l'oggetto nel corso del tempo che cambia io mi ricordo un giorno si potrebbe fare un'altra storia questa questione dell'autorialità noi l'avevamo discussa con ruoli ovviamente diversi durante il lavoro del dizionario di architettura perché il dizionario di architettura è stato uno straordinario progetto che però partiva da questa idea di pratica diciamo ovvia cioè di selezionare dei nomi e poi narrare una storia attraverso attraverso questi nomi però già allora ci ponevamo il problema se se questo fosse il modo di fare l'autorialità è un tema centrale che non dovrebbe neanche spaventare gli architetti perché in realtà il lavoro di un architetto progettista è anche controllare partecipare alle dinamiche che sono dietro alla progettazione e alla costruzione è uno degli attori principali però gli attori principali di un di un di operazioni che coinvolgono più soggetti e cito solo una cosa molto molto recente personale un progetto di ricerca a Milano appena iniziato con alcuni colleghi nato così quasi per caso dietro l'offerta di una grande impresa italiana che si occupa di costruzione di componenti per l'architettura e scoprire cosa proprio di questi giorni scoprire che gran parte della storia dell'architettura che io narro ai miei studenti in classe si trova nei cataloghi di questa impresa vuol dire parti di quegli edifici ma parti significative perché le estetiche caratterizzanti di questi edifici sono anche determinate dal ruolo di questi attori che sono degli attori tecnici che però noi sospettiamo sono in costante dialogo con i progettisti quindi il progettista non è emarginato è una parte di questo processo e forse studiare Gabetti e Isola può essere anche un modo diciamo in vitro per considerare o riconsiderare questi temi personalmente come storico dell'architettura e io non a caso ho iniziato sul Gabetti bibliofilo la parte che mi intriga di più la parte che mi affascina di più è certamente il Gabetti storico e come dicevo prima anche la domanda se sia ancora possibile avere delle figure come Gabetti oggi non voglio essere pessimista non voglio essere negativo ma certamente è molto più complicato oggi passare da un livello all'altro non fosse altro per la quantità enorme di scholarship di produzione scientifica che ormai è determinata non soltanto da una curiosità o da una necessità da una ricerca di sapere ma anche da dinamiche che sono accademiche che sono di promozione accademica sono di fundraising e così via e chiudo grazie 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 Paolo sempre bellissimo sentirti dialogare su questi temi che condividiamo moltissimo direi passiamo alla generazione successiva proseguiamo per generazione di allievi chiedendo soltanto di rimanere un pochino nei tempi perché altrimenti poi sforiamo troppo ma no 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 stacca tutto toglimi la corrente grazie Daniele Campo Benedetto grazie mi unisco ai ringraziamenti di Paolo Scrivano a tutti voi per aver lavorato a questa a questa opera e per aver organizzato questa occasione di confronto io non ho conosciuto Roberto Gabetti così vado al peccato originale subito e lo sgombriamo il campo l'ho incontrato nei testi e forse avendo iniziato questa facoltà di architettura nel 2005 un po' per osmosi insomma le persone che ho incontrato soprattutto nella trennale hanno traghettato nella mia esperienza didattica alcune delle cose che poi ho ritrovato negli scritti dicevo non l'ho conosciuto non ho lavorato con lui come progettista conosco molto poco e e quindi nonostante quello che dice Carlo cioè che nella sua introduzione ci ci invita a studiare anche Gabetti progettista anche forse soprattutto Gabetti progettista oggi volevo condividere con voi tre cose tre su un altro aspetto che è quello del mestiere del ricercatore qui siamo quasi tutti insomma sì direi tutti ricercatori ci sono molti dottorandi ci sono docenti e ricercatori che è proprio un mestiere mi piacerebbe usare il termine tedesco quel beruf che richiama la vocazione più che non solo la professione ma anche la vocazione nel testo che mi avete invitato a discutere credo che si leggano sicuramente i campi che si suggerisce di approfondire nello studio dell'opera del ruolo anche di Roberto Gabetti mi riferisco in particolare a Carlo Olmo Marco Corona Lidia Preti ma anche alle modalità e i temi attraverso cui esplorare questi campi mi riferisco qui al contributo di Alessandro di Michele anche di Giovanni e anche di Sergio sulla questione universitaria in conseguenza diciamo a questo io provo a mettere di fianco un'altra domanda che se guardate bene stampata ton su ton sulla copertina c'è un perché prima e un punto interrogativo dopo cioè io rileggo il titolo con perché studiare Roberto Gabetti invece di studiare Roberto Gabetti questo è stato un po' il modo di che a un certo punto mi insomma in cui mi sono posizionato verso verso questi questi testi provare a non naturalizzarla questa anche questo affetto questa esperienza molto forte che tutti voi raccontate proviamo a non naturalizzarla proviamo a chiedereci vale la pena vale la pena fare questa operazione e qui dico le tre cose tre parto dall'unica cosa che conosco con un minimo di competenza cioè diciamo l'opera di 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 Gabetti e il contributo che ha dato nell'espansione dell'infrastruttura scolastica torinese mi riferisco in particolare alle scuole costruite 63-64 per il quartiere delle Vallette quelle scuole hanno avuto quegli edifici quei due edifici hanno avuto un ruolo fondamentale nell'espansione di questa infrastruttura scolastica da quegli edifici sono è nata un filone all'interno degli uffici tecnici che ha portato alla costruzione di altri edifici che oggi esistono che hanno accolto altri allievi soprattutto le scuole medie insomma istituiti nel 62 e e non solo anche altri modelli di scuole per l'infanzia c'è quindi una relazione tra un progetto e un edificio costruito e poi una serie di effetti che non sono situati non sono gli effetti di quell'edificio non sono gli effetti su quel sito ma sono degli effetti su un'infrastruttura più grande un qualcosa di che va molto al di là di quel sito a me questo sembra un elemento interessante per chi per chi fa ricerca per chi sviluppa quel mestiere di ricercatore che prima a cui prima accennavo nel libro poi si fa riferimento ad altri aspetti dell'impegno civile di Roberto Gabetti la commissione d'arte sacra quindi anche qui altre infrastrutture edilizie in questo caso gli edifici per il culto mi sembra che che la relazione appunto tra singolo progetto e sistema edilizio che si scorge in questo esempio dell'attività di Gabetti possa dire ancora qualcosa e dica molto infatti sulla relazione tra la costruzione di conoscenza e l'azione progettuale a noi a me oggi che lavoro che faccio questo mestiere che cerco di farlo insomma in qualche modo e questo era il primo punto il secondo punto è legato a questo a questo primo vi raccontavo che ho iniziato a frequentare questa scuola nel 2005 e insomma prima di spostarmi a Milano poi a Parigi ho incontrato appunto soprattutto negli anni della triennale persone che avevano lavorato nel solco di Roberto Gabetti ovviamente io non avevo nessuna contezza di questa cosa poi un minimo l'ho capito dopo e e mi pare che quell'esperienza di quei tre anni non mi abbia fatto capire una cosa che poi ho capito dopo leggendo Gabetti cioè io non ho capito Gabetti attraverso la scuola torinese o meno non ho capito quello che ho capito che probabilmente è poco e sbagliato ma quello che ho capito non l'ho capito a Torino non l'ho capito nella scuola torinese almeno in quei tre anni di esperienza qui e vi fa cerco di circostanziare questa mia affermazione perché poi spero che abbia senso al di là della mia esperienza personale l'attenzione al contesto che in quel momento era fondamentale parlo del 2005 2008 il progetto era un progetto molto legato al contesto era il contesto territoriale il contesto morfologico la città costruita il paesaggio ecco era e questa attenzione al contesto era un'attenzione funzionale al progetto si progettava in relazione a questo contesto bellissimo fantastico ma rileggendo questo testo che voi avete preparato e anche gli altri testi di Roberto Gabetti che sono richiamati all'interno mi sembra e lo ridico è una cosa che voi sapete benissimo ma per me è stata una riscoperta che in fondo l'attenzione al caso specifico non si traduce tanto nell'attenzione al contesto del sito ma si traduce soprattutto nella capacità di saper descrivere il campo di applicazione del sapere generato attraverso l'azione di progetto ovvero il gioco non è tanto determinare il progetto in relazione al contesto ma indicare i contesti in cui il sapere progettuale è applicabile dove sono i contesti in cui io posso generalizzare quel sapere progettuale che ho accumulato che ho costruito attraverso l'azione di progetto questo è il contesto è un modo di vedere il contesto che ci viene offerto e questa cosa l'ho capita fuori per come dire per sottrazione ovviamente per antitesi non c'è stato nessuno che mi ha spiegato Roberto Gabetti a Parigi purtroppo ma è andata così e mi sembra che questo sia un altro elemento che possa interessare chi oggi fa il mestiere del ricercatore terzo punto qui vado diretto al punto è lo studio dell'ordinario che ritrovo in testi come alloggi economici a New York oggi che ho riletto con molto piacere in questi giorni ma anche c'è un altro esempio nell'andare contro la locuzione impatto ambientale degli edifici che viene richiamata nei testi di Roberto Gabetti come se questo impatto fosse l'impatto di un proiettile che colpisce un luogo un sito e quindi forse antelitteram rispetto alle mode c'era un tentativo di discorso sulla relazione tra architettura e sistemi ambientali questo mi pare appunto rilevante la questione dello studio dell'ordinario perché perché la formazione che avevo che avevo ricevuto non andava tanto in questo senso ma era sempre una formazione almeno nei primissimi anni che puntava appunto all'attenzione verso l'eccezionale qui concludo questo punto citando proprio una riga dell'83 di Roberto che ho riletto appunto con piacere dice l'arte e quindi l'architettura non può essere ritaglio qualitativo estraneo ai caratteri della produzione un costo in più un lusso ingiustificabile nella piccola scala della casa come nella scala planetaria del territorio si può non essere d'accordo nella pratica dell'architettura ma mi sembra di nuovo che dal punto di vista del ricercatore in architettura questo sia una un punto di vista interessante mi avvio verso la fine quindi tornando alla domanda originaria vale la pena di fare questa cosa beh qui mi ero preparato una lunga citazione di Gabetti perché che riassume una cosa che sembra valida oggi ve la leggo un po' velocemente dice in questi anni parlando della della relazione tra architettura scienza e tecnica Gabetti dice in questi anni di organizzazione se i problemi di fondo paiono più aperti all'indagine critica sono in modi operativi a risultare estranei ad un'estesa revisione del settore l'architettura non vi fanno più fronte le riviste di architettura questo grande veicolo di informazione per tutto il movimento moderno nelle scuole di architettura urbanistica fondate su ipotesi riduttive e mai seriamente riformate negli strumenti normativi oscillanti tra una maniacale precisione prescrittiva e un'assenza normativa di comodo né ancora le politiche di un intervento a livello urbano risultati inutili strumenti per una nuova città i piani regolatori generali i piani particolareggiati e così via allora vale la pena queste cose valgono ancora mi sembra di sì in qualche misura soprattutto in un momento in cui questo mestiere del ricercatore soprattutto dei ricercatori in architettura poi se vogliamo usare tutte le caselline del caso i car 14 composizioni eccetera eccetera è particolarmente confuso non si capisce bene qual è questo mestiere forse non si è mai capito bene e quindi non è non è cosa nuova ma in questo momento in cui il metodo in cui il metodi possono essere discussi più che i temi la proposta di Roberto Gabetti di un metodo mi sembra in qualche modo rilevante chiudo con una postilla spero di non essere di non avere cartellini gialli fino a questo momento la postilla è questa sento spesso parlare della difficoltà di insegnare in aule internazionali come se gli studenti nel nostro scuola intendo dire qui a Torino come se gli studenti stessi fossero i responsabili di questa difficoltà come se fossero loro la responsabilità del disallineamento con la cultura dei docenti in aule sempre più caratterizzate da una moltitudine di nazionalità io ne avevo 20 lo scorso semestre e proprio in ragione di una universitas che si va riformando credo forse che la traduzione il commento di alcuni testi di Roberto Gabetti siano un modo di continuare questa ricerca dico traduzione e commento perché è uno dei modi traduzione non solo non vuol dire solo in inglese insomma Roberto Gabetti parlava parlava ad un pubblico piuttosto ristretto in un modo anche piuttosto difficile posso dire io che non capisco molto e qualsiasi opera che sopravvivene al suo tempo perde il suo pubblico originario ora o queste cose sono ibridabili possono andare incontro al meticcio possono essere pacioccate e contagiate da da qualcos'altro oppure il rischio è che valga la pena di studiare Roberto Gabetti ma non ci sia nessuno che ha voglia di farlo fra un po' e invece invece forse questa scuola insomma queste persone possono essere proprio uno degli elementi i ricercatori chi fa il mestiere di ricercatore potrebbe proprio essere potrebbero essere coloro i quali si prendono la responsabilità di tradurre questa cosa questa questo pensiero non solo appunto in un'altra lingua ma anche all'interno di un dibattito legandolo a quello che sta succedendo adesso e in questo modo appunto riuscire a a incastrare in un dibattito più ampio queste queste idee perché se no finiamo un po' in quella ossessione identitaria di cui quel bel libro di Francesco Remotti di qualche anno fa ci evita ci invitava a insomma a diffidare chiudo quindi veramente dicendo che credo che saranno gli studenti a decidere il respiro di questa eventuale impresa grazie grazie mille Daniele grazie davvero anche per questa sintesi che apre a nuovi studi nuove ricerche tutti li avete sollecitati e direi che la parola a Manuel Orazzi che oltre a essere studioso è anche editore editor di una casa editrici e casa editrice come Quadlibet è un passaggio fondamentale perché poi le ricerche vanno pubblicate nel senso di rese pubbliche Manuel sì grazie anche per l'invito naturalmente ecco io ovviamente posso portare un punto di vista esterno non avendo studiato a Torino e soprattutto diciamo credo che sia sempre utile interrogarsi cercare di capire perché anche un autore non venga studiato non venga cioè è forse più facile capire perché un autore viene riattualizzato un periodo un'opera in un certo momento più difficile forse chiedersi perché non venga studiato per esempio questo è un momento storico in cui non solo Gabetti non viene studiato ma neanche Corbusier è un suo autore ci sono tanti motivi l'architettura ha delle preoccupazioni diverse senz'altro però sicuramente non credo ci siano tesi sulle Corbusier di dottorato in corso Torino non ci scommetto ma insomma ci sono dei motivi insomma ecco a parte quelli fisiologici dopo la morte però allora venendo da fuori avendo studiato altrove a Venezia potrei fare qualche altro esempio diciamo io ho studiato a Venezia l'UJUav non c'è una tesi non solo sui professori degli anni 50 su Benevolo su Zevi ma non c'è una tesi su Aimonino cioè ne è stata fatta una l'anno scorso perché due anni fa c'è stata la mostra a Milano quindi diciamo che non vale facciamo fino al 2000 fino al covid c'è una tesi su Tafuri fatta nel dottorato di Secchi in urbanistica sul giovane Tafuri molto particolare fino a Tafuri ventinovenne finisce la tesi e a Firenze adesso negli ultimi tre anni stanno uscendo libri su Leonardo Ricci ecco quindi partirei dal punto così di realtà che non è un caso isolato quindi la la statura l'importanza di Gabetti cioè a volte queste personalità ingombranti così provocano questo effetto ecco perché adesso lo U si sta muovendo per ripubblicare Tafuri cioè stiamo parlando di tutti autori tra l'altro che sono fuori catalogo da da decenni tutti e tre poi mi fermo qua forse forse un caso diverso solo è quello di Ernesto Nathan Rogers che a Milano il culto è sempre rimasto vivo però parliamo di un architetto morto nel 1969 credo se non 68 quindi molto prima ecco quindi ha già vissuto i vent'anni eh così di oblio diciamo classici dopodiché credo che questo libro appunto così pur essendo breve così variegato eh per contributi appunto anche per interessi diversi oltre per le generazioni anche per interessi studi differenti di chi ci ha lavorato insomma appunto eh Michele Bonino Armando eccetera vorrei ecco anche ehm cercare di capire perché per esempio Gabetti sia rimasto così importante forse solo insomma in quest'area geografica uno perché penso che l'architettura italiana assomiglia alla cucina italiana nel senso che sono scuole regionali e la cucina piemontese è la cucina di una capitale a differenza di quella romana che è una cucina di frattaglie e infatti si vede cioè Carlo c'è un abisso benché di origini piemontesi c'è un abisso antropologico tra Carlo e Monino e Roberto Gabetti no? Io non l'ho conosciuto ho avuto la fortuna di incontrare una volta a Imaro Isola grazie a Manfredo di Robiland insomma però appunto c'è l'abisso che c'è tra il latino e il volgare ecco il volgare nel senso della lingua che tutti amiamo e nella quale abitiamo come si è detto senza e quindi questo certo ha rappresentato anche una un così un timore reverenziale che era molto forte a Venezia si capisce anche Tafuri cioè ci sono solo tre architetti che tratta bene la sua storia sono De Carlo e per motivi diversi De Carlo e Monino e Gabetti e Isola però Gabetti e Isola insomma è il livello più alto quegli altri sono motivi differenti di impegno sociale civile eccetera e basta pensare all'opera la prima opera cioè ma in quale città italiana si può debuttare con una libreria antiquaria ad Ancona facciamo una libreria antiquaria così grande cioè in che paese viviamo nel senso è un altro paese non è che è un'altra regione la facciamo a Firenze una libreria antiquaria no neanche a Firenze la facciamo ecco forse a Milano però non l'abbiamo fatta a Milano l'abbiamo fatta sotto la mole tra l'altro non abbiamo ovviamente perché una libreria antiquaria è difficile da immaginare in periferia no anche se a Brescia ci sono due fratelli dell'Arengario in una villettopoli che conservano però è un'altra cosa c'è in mezzo il postmoderno quindi ecco credo che questo sia anche un motivo del timore violenziale invece per l'altra questione che anch'io trovo urgente della comunicazione tra le discipline e i saperi che è un problema insomma legato anche alla decadenza dell'insegnamento universitario italiano perché appunto se non altro le facoltà sono raddoppiate quindi è ovvio che insomma c'è una democratizzazione ci sono anche tanti aspetti positivi però chiaramente è diventato una cosa insomma con delle regolamentazioni da così da da impiegati impiegatizie quindi con quelle logiche con quei no meccanismi burocratici legali però che ovviamente che non credo ci siano nelle scuole americane sicura non lo so sicuramente non ci sono scuole svizzere ecco io insomma ho il privilegio da tre anni insegnare a Mendrisio e sono di formazione storico di architettura tengo un corso su città e territorio che insomma ecco che l'ho trovato ecco una sorta di rinascita di ripolarizzare gli studi scoprendo con semplicità con evidenza che tutti questi grandi autori di cui parliamo nessuno aveva mai separato le due cose diciamo nessuno pensava di essere uno storico un progettista un urbanista Olmo nella sua densissima piena di allusioni insomma di possibili vivi per cui o tangenti per cui partire del suo saggio diceva che appunto era contrarissimo a considerare Gabetti il restauro come qualcosa di separato dall'architettura da furia di idee opposte ma fa parte di questo quadro tra l'altro appunto non è un caso isolato che lui sia passato da scienza delle costruzioni a composizione e poi con altri nomi elementi di progettazione Sergio Paccio ricostruisce per filo e per segno tutta la vicenda ricordo solo due altri due casi che diciamo oggi sarebbero eclatanti ma all'epoca no cioè De Carlo passa da urbanistica a progettazione lascia anche perché vuole lasciare lo IUA per andare a Genova perché è anche contrario alla tipologia per dei motivi ideologici anche e portoghesi invece più per un vezzo direi anche antropologicamente più appropriato a un certo punto decide di passare da storia a progettazione negli anni 80 dopo il successo planetario ma appunto un'altra figura che appunto prima dei 40 anni aveva scritto mille pagine ecco per dire insomma più con le foto tutte sue sui campanili vabbè cioè nel senso perché poi questi sono grandi perché gli scritti scelti di Altorossi gli scritti scelti sono 500 pagine scelti non tutti gli scritti prima dei 40 anni ecco se vai a vedere la mole è un po' questa per tutti questi autori Durbiano nel suo saggio parla di stanze separate nel per che tra l'altro è quasi il titolo di un romanzo di tondelli per per definire questi ambiti di ricerca paralleli che fanno parte un po' appunto di questo poi la biografia che cos'è cioè una biografia come si fa no? Anche solo a schematizzarla è sempre un arbitrio sono lavori interessi appunto il dottorato la biblioteca che trova un aspetto importantissimo peraltro mai indagato nelle altre università eppure fondamentale poi la biblioteca è una cosa che dà tanta libertà agli studenti di formarsi anche da soli cioè di sopperire alle mancanze a scaffale aperto che poi altre università però nel tempo con gli anni eccetera ovviamente questo è una cosa anche questo fa parte della democratizzazione del sapere dello studio Paolo Scrivano prima parlava di cultura politecnica a Milano usano questa definizione cultura politecnica quella scuola cui viene Piano Ciribini adesso mangia roba così invece Gabetti parla di sapere enciclopedico e sapere politecnico appunto questo imprinting illuministico torinese ovviamente che è anche regionale però per andare a chiudere io ultimamente insomma mi mi stavo diciamo anche appunto per questa questo timore riverenziale che provocava verso le altre scuole regionali sicuramente Gabetti anche per via familiare con questo fratello così importante esecutore testamentario della famiglia Agnelli insomma e alcune molte occasioni progettuali importanti sono passate cioè credo che fosse quasi per riflesso quando c'era un'occasione progettuale della Fiat in ogni caso veniva veniva consultato ecco anche se poi come il progetto del 72 per c'era una mega talponia per il centro Fiat il 73 vabbè ma insomma quindi c'era anche questo da considerare oltre alla cultura la lingua appunto parlata che era diversa eh ma è una lingua comunque anche l'italiano un italiano differente da quello anche veneziano dove la a Venezia la contessa Valmarana parla come la pescivendola di Rialto ma non è una battuta ecco io ho fatto dei corsi di matematica in dialetto terribile professoressa sinicalia gente bocciata cinque volte vabbè insomma ecco perché il dialetto è proprio parlato all'ufficio postale a Torino sicuramente non è così ecco però corrispondeva ai suoi studi anche all'aula in cui stiamo parlando perché architecture matters insomma non è che le facoltà di Ascoli Viceno insomma è una sala abbastanza inconsueta ecco l'università lo dico con grande ammirazione naturalmente ehm dicevo io adesso negli ultimi tempi mi sono messo a fare una ricerchina sulla borghesia privata così insomma non richiesta da nessuno e perché penso che grande con la con la fine dell'edilizia pubblica sostanziale un po' dappertutto e ovviamente con la con l'architettura dei fondi di investimento ritornano in auge soprattutto all'estero in Europa nel nord Europa gli architetti che noi considerate ormai per esauriti cioè Gardella Albini Asnago e Wander tutte cose che non ne possiamo cioè ampiamente esaurite invece Caruso e St. John cominciano Sergison fa i corsi appunto su Gardella Caruso e St. John ha fatto un libro su Asnago e Wander 13 anni dopo quello di Zucchi che nessuno già come fosse sparito e così via ed è perché se devi fare l'architettura dei fondi devi fare le torri da vendita a vedere le opere anche di Lingeri certamente non vai a guardare ai Monino Rossi o De Carlo perché non le hanno fatte hanno fatto altro e appunto studiando la borghesia ci sono due cose che vorrei citare per chiudere brevissime una frase che non conoscevo appunto citata da Olmo da tipologia manualistica che deve essere una sorta di libro così chissà proprio per pochi iniziati ecco in qualche libreria antiquaria da trovare così forse esoterica di librerie esoteriche dove dice Carlo Olmo nel 65 Rondelet capitano delle affinità elettive che dà fiducia al buon cliente borghese ecco e poi tra l'altro io avendo conosciuto pochissimo però incontrato Isola è anche divertente perché Isola sembra è Isola che fa il sempliciotto persona coltissima basta leggere i suoi riferimenti sempre altissimi però sembra quasi si sono scambiati i ruoli cioè Gabetti che era figlio di un questore sembrava lui l'aristocratico e Isola viceversa faceva l'umile però diciamo che comunque siamo nell'alta borghesia perché poi dopo la rivoluzione francese purtroppo diciamo è più o meno finita vale per quello che vale e quindi diciamo questa che in fondo è ancora una parola che ha una connotazione negativa anche non dico che non è più come nel 68 fascisti borghesi ancora pochi mesi però tutto ciò che è borghese di solito è piuttosto negativo però non è il caso di Gabetti e volevo chiudere davvero perché qui appunto come anche anche negli aspetti negativi tutto ciò che è piemontese è diventato un'eccellenza italiana è una cosa anche insopportabile con Italy cioè la fassona gente che ordina la fassona a Roma cioè gente da prendere a botte ecco secondo me assaggia questa fassona il tartufo ma c'è una cosa no anche l'impaziente perché agli italiani forse è rimasto solo questo mangiare per il resto diciamo salari più bassi d'Europa eccetera mangiamo va bene e tutte le province italiane vorrebbero imitare le langhe la fassona il tartufo il vino l'esportazione il barolo questo quell'altro quellunque l'acqua credo il cioccolato le nocciole tutto quello che vedi ecco insomma Torino è questo cioè appunto c'è questo 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 imprinting elitario che ovviamente non è che è infondato perché io veramente cioè quando penso c'è il primo edificio dell'architettura moderna italiana il Ficigualino io ogni volta che vado a vedere una mostra vedo Casorati cioè vedi veramente De Chirico dice ma De Chirico non l'hanno bocciato cioè vedi degli occhi storti dei nasi gobbi cioè veramente un abisso con Casorati che se uno pensa che appunto il consulente per gli acquisti della colazione Guadino era Lionello Venturi uno dei dodici questo antifascismo aristocratico impensabile in ogni altra parte d'Italia anche perché semplicemente non c'era già a Milano bene su questa questione della borghesia c'è questa il saggio di Giovanni Durbiani conclude con una citazione da Gabetti in cui lui giustamente dalle alle radici dell'architettura rivede in filigrana la sua figura questa nuova figura di pensatore si forma una propria filosofia particolare domestica essendo ambizione dell'eclettico non quella di essere per eccettore del genere umano ma suo discepolo di riformare se stesso più che gli altri di conoscere la verità più che di predicarla l'eclettico è un uomo che raccoglie e che setaccia godendo di quanto ha raccolto vivrà felice morirà ignorato quindi quasi una previsione però non solo ci si rivede giustamente Giuliano ci rivede Gabetti ma questa è anche una definizione del borghese che paga le tasse che parla in italiano che arriva in orario e che basta a se stesso lo dice anche Lukacs nei suoi primi libri ma questo è Max Weber veramente cioè quella borghesia che appunto in Italia storicamente manca e che è sempre sempre in crisi minacciata continuamente da tutto dal festival di Sanremo dalla rai da tutta una serie di forze del male che purtroppo produciamo noi nella bassa Italia come si dice però ecco io credo che appunto credo che invece Gabetti che appunto con questo timore reverenziale sicuramente anche ha incontrato dei problemi e anche nel suo essere pochissimo ideologico proprio perché borghese perché alto borghese negli anni dell'ideologia non hanno sicuramente aiutato la sua traduzione circolazione esterna però io credo che appunto molte delle opere oggi invece in questo quadro possono essere rilette anche se appunto non solo l'architettura come ha detto un grande filosofo ogni opera è un'opera collettiva quindi il culto dell'autore va criticato anche in filosofia quindi figuriamoci in architettura grazie 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 mille anche a mano orazzi solo due tre due tre commenti uno di servizio uno un po' autobiografico uno invece relativo a quello che che hanno detto io vorrei sottolineare hanno tutti quanti parlato del ruolo di Roberto Gabetti per la biblioteca di architettura mi fa molto piacere sottolineare questo aspetto è un dato ulteriore se non altro perché la serie Liberi Libri nasce proprio per all'interno delle biblioteche dell'Ateneo una delle cose più straordinarie che ha fatto Roberto Gabetti è non soltanto costituire la biblioteca centrale di architettura ma dividere i libri tra architettura e ingegneria è stato lui che li ha divisi e se uno scorre i due cataloghi si rende conto come dire che c'è uno studio dietro raffinatissimo ci sono delle cose che uno si aspetterebbe a ingegneria e sono ad architettura delle cose che sono ad architettura e uno si aspetterebbe a ingegneria al contrario una cosa straordinaria di affinità letteralmente selettive piuttosto che elettive che è stato credo uno dei lavori più interessanti e misteriosi misteriosi nel senso che non si conoscono di Roberto Gabetti poi la parte autobiografica soltanto un'osservazione sentendovi parlare mi sono reso conto ma non interessa a nessuno però probabilmente la prossima volta presentiamo libri di tutt'altro tema di tutt'altra storia che io ho fatto un corso di composizione con Carlo Emonino mi sono laureato con Paolo Portoghesi e ho fatto il dottorato con Roberto Gabetti quindi ho un'età assolutamente veneranda evidentemente ancorché mi ritenga ancora giovane ma devo dire evidentemente non lo sono più la terza cosa è che vorrei dire invece a quelli che ci stanno seguendo da remoto che c'è la possibilità anche di intervenire naturalmente mandando un messaggio in chat che io poi posso posso senz'altro filtrare sia al curatore sia agli autori che sono presenti proprio per quanto riguarda gli autori qui in sala ci sono anche tre sono più di più di tre veramente però ci sono tre autori che hanno contribuito al libro e che sono Michele Bonino Giovanni Durbiano e Paolo Mellano e forse darei anche a loro la parola per commentare il ruolo di Gabetti nella scuola sono tutti e tre appartenenti ovviamente anche alla scuola di Torino e commentare anche un'operazione come quella del convegno di due anni fa e del libro oggi forse darei la parola prima a Paolo sì sì c'è anche Alessandro è vero c'è anche Alessandro da da remoto forse allora vediamo prima Alessandro Alessandro ci sei da remoto Alessandro Armando io ci sono ecco allora forse Alessandro ti vediamo comparire in video sì perché Alessandro Armando è a Manchester adesso eccolo lì gigantesco l'inviato speciale l'onore in in un modo che non tutti sarebbero in grado di di gestire questo grazie alle grandi potenzialità tecnologiche del Politecnico dati mirabilmente gestiti sì buonasera a tutti sono molto contento di farò un commento molto breve anche perché è difficile avere una diciamo interazione non vi vedo in faccia vedo solo un po' il contesto della sala quindi farò dei brevi commenti di reazione a questa serie di interventi che sono per me stati brillanti e interessantissimi e anche divertenti la chiusura di Manuel Orazzi è uno dei migliori commenti dall'esterno che abbia mai sentito come ritratto di Roberto Gabè sono contento di questa sequenza ma provo a dire delle cose che mi sono annotato mentre i relatori prendevano parola per esempio la domanda che Daniele ha posto perché studiare Roberto Gabetti direi che nel caso del testo che io e Michele abbiamo scritto la ragione per cui studiare Roberto Gabetti che noi abbiamo conosciuto diciamo quando era la fine del suo percorso di professore lo abbiamo avuto anche come professore la ragione è stata quella di andare a vedere qualcosa della sua diciamo pratica della sua pratica di progettista del suo modo di fare i progetti quella questa questo invito che Carlo Olmo all'inizio faceva su mettere le mani nei processi per noi ha significato proprio andare a vedere le mani di Roberto Gabetti e dei Maroisola come si incrociavano nei sui sui fogli da disegno si è già detto delle sezioni anche nel testo si parla delle sezioni le sezioni forse sono più diciamo un impianto cognitivo del progetto che viene fuori e che può essere insegnato chiaramente può essere trasmesso ma poi c'è anche il tavolo il tavolo dello scambio che invece è la dimensione pragmatica appunto di quel lavoro in cui forse appunto non c'è tanto si capisce che non è tanto una questione di mistero sempre Carlo prima diceva l'autore non c'è più non c'è l'autore l'autore c'è l'autore Gabetti e Isola è l'effetto probabilmente non la causa di quel lavoro lì e emerge da questo tavolo da questo tavolo in cui queste mani si incrociano ed è un modo di lavoro in cui sostanzialmente si coglie proprio andando nell'archivio si vedono questi ci sono le prove ci sono le prove tracciate di questi di questi scambi al tavolo in cui si accerchi al caso particolare ci si arriva diciamo perché le idee sono fuori non sono nella testa dell'uno o dell'altro in questo senso io credo che se c'è un occultamento è paradossalmente trasparente come occultamento nel senso che si può vedere come sono andate le cose interrogando Aymaro su questi su questi scambi no su come avveniva questo scambio lo scambio materiale intendo proprio il disegnare insieme mi è stato risposto che era una domanda indiscreta ma in realtà appunto secondo me uno dei percorsi che si può fare è proprio quello di indagare questi protocolli di azione che loro avevano e che fanno di Gabetti e Isola una una condizione molto particolare forse unica nel panorama dei progettisti di quella generazione in cui il fatto che non ci sia l'autore è anche un effetto di questa pratica non è solo una questione di posizionamento è proprio una condizione che si genera nell'azione concreta e che fa sì che appunto questi progetti vadano avanti perché sono aperti e sono disponibili a cambiare ma tutto questo avviene senza esitazioni il che di nuovo sembra un paradosso ma probabilmente non lo è ecco io credo che questa sia la parte trasmissibile di quello che Gabetti ha fatto come progettista e a noi può essere può stare il compito di ricostruire questo progetto che è un progetto epistemologico oltre che ovviamente culturale pedagogico che ha tantissime implicazioni e allora qui forse si può arrivare a tradire Gabetti e quindi a tradurlo nelle pratiche e poi anche magari riscrivendo i testi in altre lingue però dal punto di vista proprio del taglio pragmatico su quello che ci lascia Roberto Gabetti noi possiamo iniziare a rilanciare un'eredità e riappropriarcene anche su un campo più vasto anche su un campo internazionale parlo di pratica per esempio qui a Manchester la pratica del lavoro l'etnografia della pratica progettuale per esempio è uno degli assi portanti di un modo di fare diciamo teoria del progetto quindi credo che Gabetti potenzialmente sia una fonte un asse di interesse che va ben al di là di quella condizione locale che fino adesso locale e nazionale per carità ha costituito diciamo il suo il suo orizzonte di condivisione mi fermerei qui grazie grazie mille grazie Alessandro grazie anche per la pazienza che da remoto ci stiamo disabituando un pochino a stare tanto tempo da remoto e adesso appunto passerei a a Paolo Milano la parola qui in sala e anche anche ti si inquadra con questo che si inquadra più o meno vi rientro se il campo è largo non usare il campo largo che sei pronto sì mi si sente no visto che l'ora è tarda due due semplicissime osservazioni la prima provare a rispondere all'interrogativo che si fa Daniele e il campo benedetto perché studiare Roberto Gabetti mi viene un po' da dire come come mi rispondeva mio nonno quando gli facevo delle domande impertinenti perché sì perché sì perché perché è importante farlo perché se vuoi fare questo mestiere è bene studiarlo e perché studiandolo forse capisci quanto sia importante la fase della conoscenza quanto sia importante la fase dello studio quanto sia importante sapere il mestiere saper salire sui ponteggi e discutere con con i carpentieri quanto sia importante lavorare lavorare pensando che il il finale il scopo del tuo lavoro e poi far stare bene coloro che che ti hanno commissionato il lavoro quindi lavorare pensando a a al fare al costruire un abitare per qualcuno che che ti ha chiesto di risolvergli un problema io li ho visti lavorare insieme Roberto Gabetti e Emano Isola ero seduto con loro a quel tavolo da ping pong che avevano nell'ingresso dello studio di Giasacchi 22 ci sono stato per due anni in cui si lavorava progetti importanti come il concorso per la Bicocca come il quinto palazzo ufficio di Dresnam come il concorso per la Biennale di Venezia e quindi ho visto come come si strappavano il disegno da le mani come uno disegnava sul disegno dell'altro come Gabetti commentava gli schizzi di Imaro e come Imaro Isola cercava di tradurre le osservazioni di Gabetti e era un progetto a quattro mani era un dialogo continuo e costante non è che si possa dire prevaleva l'uno prevaleva l'altro ecco non c'era una gara a prevalere l'uno sull'altro ma c'era una collaborazione nel senso etimologico del termine un lavorare insieme ed era fondamentale vedere come come questi progetti nascevano sulla biblioteca nel mio scritto nel mio intervento l'avevo già detto a me piacerebbe che nella biblioteca si riuscisse a fare quello che è stato fatto all'OIUAB per Tafuri e per quanto posso ancora farlo nel senso che il mio mandato sta scadendo come una mozzarella quindi a fine a fine settembre non sarò più dove sono oggi ma per quanto potrò farlo dove se fosse se riuscissimo a mettere insieme a un progetto mi piacerebbe che questo archivio venisse questo fondo di Gabetti venisse digitalizzato venisse messo in rete messo online a disposizione di tutti come come un un bene comune di comune dominio di comune consultazione di comune studio e in questo modo forse cerchiamo riusciremmo anche a promuovere lo studio di questo di questo autore che per chi lo ha frequentato per chi lo ha lo ha visto lavorare per chi gli è stato vicino è un po' come come un padre no? come come una persona saggia che che lo ha sempre consigliato e lo ha portato per mano per qualche tempo per chi non l'ha conosciuto magari è più distaccata la figura però studiarlo è importante è fondamentale e io spero che che si continui a studiare grazie grazie mille Paolo Giovanni ah prima di te ok Giovanni sì Giovanni si ritrae per l'ultimo conclude come sta bene grazie grazie a tutti in realtà Alessandro ha già spiegato bene quello che abbiamo fatto e scritto quindi io faccio solo due corollari uno sul ricordo che lui stesso faceva di insieme nel corso l'ultimo anno che Roberto Capetti ha insegnato l'ultima lezione quindi della sua vita di docente era l'ultima del nostro corso ricordo c'era eravamo là sotto nel seminterrato quindi tutt'altro che c'è anche il video ed era stato abbastanza memorabile come era venuto perché continuava a saltare la luce io mi ricordo che allora le diapositive sparivano e quindi aveva preparato una lezione super sistematica con tutti i suoi progetti di una vita che però ogni tot di minuti si interrompeva e quindi iniziava non si fermava ovviamente e spaziava su temi dei più diversi che in effetti avevo pensato che era quello che aveva fatto durante l'anno insegnando perché io mi ricordo come era categorico nel senso che è l'unico caso che mi è capitato lui diceva sempre lo ricorderà anche Alessandro vedendo una sezione uno schizzo iniziava dicendo è giusto o è sbagliato così ci diceva che da uno poco dogmatico come lui non era assolutamente una cosa attesa però era il suo inizio categorico per poi spaziale spiegarti perché arrivando a parlare di tutto esprimendo la sua grandissima cultura questo è ricordo personale ma adesso volevo in realtà parlare di cosa abbiamo fatto di quanto abbiamo studiato poco in realtà per fare l'intervento Carlo ci ha invitato due mesi prima circa delle convegne ha detto studiate preparate scrivete quindi insomma ci siamo dedicati poco un pomeriggio nell'archivio di Gapetti e Isola insieme a Tania Marzi che ci aveva aiutato a tirar fuori alcuni progetti che ci interessava vedere proprio per capire se trovavamo quelle tracce che diceva prima Alessandro del processo di progettazione insieme dei due progettisti come sapete praticamente la totalità di quanto è pubblicato dei disegni di Gapetti e Isola sono progetti disegni finali i schizzi di Isola magari fatti alla fine o fatti addirittura dopo per raccontare il progetto e non c'è praticamente mai del materiale di lavoro qualcosa l'abbiamo trovato avevamo guardato tre progetti il residenziale Ovest il centro direzionale Fiat che ricordava prima quella Cambiolo che ricordava Manuel e poi il tribunale di Alba e quindi su quello vi dico due cose che avevamo notato rispetto a questo breve analisi una era quella che di fatto cercavamo che era quella per cui nei suoi scritti insiste tanto e spesso sulla come la pratica progettuale può assimilarsi al metodo scientifico in due parole insomma questo avviene attraverso l'accumulazione di conoscenza quindi non ogni disegno un'idea ogni progetto qualcosa di nuovo che è spesso quello che gli architetti amano rappresentare ma un processo cumulativo di disegno in disegno e di progetto in progetto e noi in quel breve tempo avevamo provato a ricostruire cosa succedeva tra i siti e progetti attraverso alcune sezioni che erano in archivio e in effetti si vedeva il residenziale Ovest disegnato com'è come un edificio non ipogeo perché tranne nell'ultimo pezzo dove incontra la terra di fatto è un edificio che anche la ripa verde sta fuori terra e quindi impersonava quel primo pezzo di una ricerca dell'architettura come paesaggio parola usata anche da loro che in quanto già paesaggio non ha nessun bisogno di essere ipogeo di nascondersi o di stare dentro il paesaggio a Candiolo un passaggio in più tramite le sezioni si vede come questa idea di architettura come paesaggio accoglie anche le tracce del paesaggio quindi tutto quello è un progetto di grandissimo territoriale quindi cambia la sezione per accogliere una strada un filare e quindi questo paesaggio artificiale si articola e il terzo alba che è un po' il terzo passo sempre attraverso le sezioni in cui il paesaggio neanche c'era e quindi totalmente artificiale viene costruito di fatto in un piazzale quella che doveva essere un loro grande progetto per tutta Piazza Metform ma poi è stato limitato a un edificio questa è la prima cosa la seconda che in effetti non cercavamo ma è venuta fuori evidente pur in quel pomeriggio sarebbe bello continuare quella che avete citato spesso c'è l'elasticità di passaggio tra le discipline che avete ricordato dal punto di vista più accademico lì si vede bene nei progetti perché tra i pochi disegni di processo ci sono quelli che riguardano evidentemente lo scambio con gli specialisti di altro gli strutturisti gli impiantisti e la cosa interessante è che nei loro disegni si vede che sono disegni di gabetti a isola comunque dello studio c'erano già le ipotesi strutturali impiantistiche quindi c'era un'ipotesi di sezionamento un'ipotesi di collocazione degli impianti che in effetti è tutt'altro di quello che spesso accade dove si passa una sezione di fatto vuota di dire guarda questo è il nostro sono i nostri ingombri strutturista impiantista aiutaci a mettere qua i tuoi impianti le tue strutture quindi mi ricordo in pochi disegni chiarissimo questo scambio di competenza con altri specialisti ma che di fatto dimostravano come la loro intenzione fosse quella di rappresentarsi come architetti che sanno già ipotizzare qualcosa che gli altri verificano piuttosto che passare la palla e basta grazie grazie mille Michele Giovanni Giovanni grazie io risponderei cioè rispondo a quello che ho sentito stasera e in particolare mi sono posto una domanda su cui ho fatto poi una riflessione mentre ascoltavo e che è questa perché Paolo Scrivano non ha voluto dare l'esame di Roberto Gavetti quando era studente e me lo sono chiesto perché Paolo non era uno studente inconsapevole però mi sono anche risposto immaginando che immaginando ricordandomi ex post che Roberto Gavetti era anche un'istituzione Paolo ha detto ha usato il termine l'ambiente era imbevuto di Roberto Gavetti anche se Gavetti non appariva era una sorta di fantasma che comunque era presente attraverso i suoi emissari attraverso Carlo Hall attraverso tante persone che comunque vivevano nello scambio con lui e probabilmente Paolo che non voleva secondare un potere istituito ha preso una strada diversa in coerenza con il suo percorso che era il prodotto di una scelta un po' più consapevole io non ho vissuto questa non avevo questa consapevolezza sostanzialmente per cui il mio confronto con Gavetti probabilmente perché nel frattempo Roberto era diventato non e quindi aveva una condiscendenza maggiore rispetto agli ignoranti come me o perlomeno le persone che superficialmente si rivolgevano a lui senza essere consapevoli delle stratigrafie di significati a cui si poteva associare il suo percorso e per cui con lui ho avuto un rapporto come dire non così istituzionale ho costruito uno scambio in lingua naturale lui ha rinunciato credo mi sembra di aver capito ha rinunciato ad alcune maschere intellettuali che invece aveva sempre coltivato sempre avuto e si è anche rivelato per degli aspetti più umani per cui con i propri bisogni con le proprie voglio dire non oso dire fragilità perché è difficile riconoscere delle fragilità però diciamo ponendosi in una forma di maggior scambio e questa elasticità tra diciamo la forma istituzionale che lui sapeva prendere e la capacità invece di porsi in termini estremamente umani con con l'interlocutore potevo essere io ma potevano essere tanti altri secondo me è una è quella caratteristica che lo rende interessante o perlomeno l'ha reso interessante a me tanto da renderlo un interlocutore continuo ben oltre la sua scomparsa perché ho sicuramente dialogato più con roberti in questi vent'anni che nei precedenti quindici in cui ho potuto effettivamente effettivamente parlare fisicamente prima di venire qui all'incontro prima di sono arrivato un po' in anticipo venti minuti prima sono arrivato al castello e allora ho detto faccio una passeggiata e mi sono indirizzato verso il parco del Valentino ho rivisto le mura del castello barocco che avevo che ho frequentato che frequento tuttora sempre con fretta sempre con con urgenza occupato dalle cose invece l'ho vista forse per la prima volta passeggiando e poi sono uscito ho visto due studenti cinesi che parlavano un inglese perfetto perfetto non lo so sicuramente migliore del mio che l'inglese lo conosco male ho visto una bella luce nel parco del Valentino ho visto delle mamme che sgridavano dei bambini ho visto tantissime mamme tantissimi bambini perché a quell'ora alle 5 meno un quarto era pieno di mamme ho visto le stesse mamme dopo che non li sgridavano più e bambini che giravano per strada e mi sembra che perlomeno ho percepito che in tutti questi incontri io potessi incontrare potessi ritrovare un po' Roberto questo è un po' quello che mi rimane di questa di questa esperienza al di là diciamo dell'insegnamento al di là dello studio ma più nella relazione viscerale di uno scambio che è diventato per lo meno per me soprattutto in questi vent'anni sicuramente per me viscerale e questo secondo me è una possibile risposta per cui è interessante studiare qualcuno non so magari ci sono sicuramente un sacco di persone interessanti a studiare però ognuno si sceglie poi chi vuole studiare e la ragione per cui io personalmente mi sono fissato su sta cosa forse è questa grazie grazie un bellissimo ricordo io adesso non so se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa qui dalla sala abbiamo una domanda che viene da casa diretta a Carlo Olmo a proposito dell'Atlante di cui Carlo parla nell'introduzione però non so se c'è qualcuno che vuole intervenire altrimenti diamo la parola direi al curatore di tutto questo che è stato anche come dire è un curatore in causa perché è stato accanto a molte delle cose che vengono raccontate nel libro per cui Carlo grazie grazie Sergio ringrazio tutti per tutto Manuel che è venuto da più distante Sergio Paolo è venuto da un po' più vicino poi sono tornato a casa e ringrazio anche di questi di questi toni molto diversi che sono usciti nella nella discussione perché questo librino questo modo molto in questo ha ragione Manuel noi siamo più montesi e siamo più montesi anche quando quelli che vengono qui non lo sono e lo diventano e siamo figli di una storia molto complicata e io non posso qui per farlo adesso in dieci minuti sarebbe ridicolo prendo solo un rapporto di Roberto a cui io ero la vittima insieme il testimonio perché io ho fatto spesso questa parte di essere centro dei rapporti che lui aveva con altri e Giulio Inaudi lui il rapporto tra lui e Giulio in tutti i momenti dell'avventura di Roberto prima poi di Roberto e mia dentro la casa editrice poi quando Giulio compie quell'atto in consulto che ha fatto e quindi viene sollevato il rapporto tra di loro diventa più dolianese di quanto fosse dolinese e poi quando Inaudi decide di costruire questa straordinaria architettura rifare questo castello vicino ad Adoliani dove c'era questa sala con tutti i libri usciti dell'Einaudi e Gavetti lo seguiva passo passo e poi si prendevano in giro uno voleva fare l'architetto l'altro voleva fare l'editore si scandiavano i ruoli e mettevano me sempre in mezzo perché io finivano quasi di litigare a quel punto entrava in gioco il loro clown beh io credo che anche solo non ho voluto oggi coinvolgere anche Malcom ma lo farò prossimamente Malcom e Inaudi che è il nipote e anche presidente della fondazione e Inaudi Giulio Giulio Inaudi in una riflessione che va al di là persino di Gavetti ha ragione in questo Manuel Gavetti fa parte di un'alta borghesia la più alta nel senso in tutti i sensi culturale sociale economica sposa la principessa di Mirafiori vive vive nel castello di Sommariva Perno quasi di Stati riordina l'archivio di Vittorio Emanuele II e lui che poi lo fa donare alla sono tante cose di Roberto che non si sono dette e lui che lo riordina e lo fa donare agli archivi di Stato solo perché lui ha voluto era là che lui faceva il giardiniere come ricorda Imaro un bellissimo ricordo io arrivavo al castello perché ne avevamo il sabato è dedicato alla discussione ogni sabato santo di tutto il periodo e quindi quando mi ha fatto venire l'architettura a quando è mancato noi il sabato discutevamo punto c'era un'altra cosa ma il venito andava a cavallo e noi discutevamo a Torino anzi a Moncalieri come a casa mia come a Perno e lo trovavo spesso in abiti da giardiniere che coltivava con fiori con tantino quelle cose e questo lui era parte di questo mondo che Torino ha espresso e che a Torino ha perso e Torino ha espresso perché lo ha espresso durante la prima la seconda guerra mondiale che ha dato luogo a giustizia e libertà che ha dato luogo l'elite dell'elite italiana che poi si è proposta come partito e ha fallito perché non era un partito ha vinto ha vinto la parte borbonica italiana ma erano hanno perso anche per come si atteggiavano io che li ho vissuti devo dire da quando ho cominciato a fare l'università in poi prima di ancora di conoscere Roberto posso dire che hanno fatto di tutto per perdere mi sono proprio impegnati e anche diciamo questo è una cosa che con Giovanni poi discuteremo Roberto non è mai stato in istituzione ha sempre fatto il fantasma di Lacan ha sempre fatto quello che stava dietro Federico Mario Rogero ha sempre quello che è stato dietro ai vari rettori guidandoli verso una certa io mi ricordo il rapporto che c'era tra Roberto e Rigamonti papà della Riccauda il primo rettore che io ho conosciuto un chimico terribile appena appena lo vedevi e lui è sempre stato si è sempre nascosto nel senso che ha sempre cercato di esercitare un'egemonia culturale questo è una malattia tipica di giustizia e libertà che tutti quelli che io ho conosciuto di questo mondo che sono tanti si sono comportati così ma mai hanno preso hanno la responsabilità in mano Roberto Bobbio faccio l'esempio dell'altra persona che io ho conosciuto bene o quasi quanto quanto Roberto quale mai responsabilità si è preso non ha fatto neanche il direttore di dipartimento qui c'è un poveretto che ha fatto otto anni direttore di dipartimento sa cosa vuol dire no lui non ha fatto nulla Roberto non ha mai era sempre nelle commissioni tutte le commissioni faceva tutto ma non era mai il presidente il responsabile perché questa è una delle domande che lo rendono interessante perché studiare Roberto perché studiare una persona che non è stato il rettore non è stato Zik non è stato quello che ha cambiato la struttura l'organizzazione la forma del nostro ateneo in apparenza perché lui lo è stato in molte sostanze e quindi è interessante perché ci aiuta a entrare dentro questo mondo dell'intellettualità torinese più sofisticata a casa sua voi trovavate quando io andavo a cena da lui trovavi le persone che poi sarebbero stati il presidente dell'ENI il presidente della banca commerciale il presidente di questo l'editore Giulio Inaudici il mondo era quello per cui perché perché un personaggio perché questi personaggi non hanno mai assunto un peso no? poi sgridavano gli altri sgridavano perché sbagliavano sgridavano perché erano stupidi gridavano io mi ricordo delle scene esileranti voglio chiudere però con un ringraziamento a Marco e a Lidia che sono qui presenti e hanno rappresentato che hanno anche scritto nonostante le loro resistenze dei miei confronti io poi mi faccio sono un vero nazista quindi lo sono sempre hanno scritto e hanno scritto anche gli inviterei a leggere che cosa hanno scritto perché quello è il punto di vista di un trentenne di due trentenni una trentenne e un trentenne che si avvicinano a un oggetto insieme sconosciuto e magico perché no? Gavetti è il fantasma del castello è vero che siamo in un posto nella più bella facoltà di acchiatura del mondo come dico io perché per dove è collocata per la sua imponenza per il fatto che c'è un parco intorno che è quello che è c'è il fiume la collina non so chiedete qualcosa c'è c'è il borgo mediovale vicino tra un po' avremo anche un ero ristrutturato e disponibile anche grazie al lavoro dei nostri professori e credo che finire con un ringraziamento a due trentenni è aprire la speranza che questa giornata sia solo un piccolo anticipo di quello che dovremo fare quello che dovrete fare perché io gli anni che ho li ho e non sono neanche una persona tutta sana quindi però voglio 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 sperare che che questo che questo interesse anche i fallimenti non solo alle alle fortune delle persone oltre che ai lati Giovanni ha fatto benissimo io non posso dire perché con Roberto ho sempre ho sempre avuto un rapporto personale non ho mai avuto un rapporto istituzionale con lui sono stato in quella condizione mi ha messo lui in quella condizione fino dall'inizio e sono stato lì sulla porta a impedire gli altri di entrare quando è mancato dall'inizio alla fine quando l'ho conosciuto quando è morto e credo che sia l'invito più giusto i trentenni sia avete una storia dietro una storia importante Turino ha espresso molte molte cose che sono state centrali per l'Italia tra cui giustizia e libertà vi ringrazio tutti ringrazio Manuel ringrazio il mio carissimo Paolo ringrazio Daniele ringrazio Paolo ringrazio Alessandro Giovanni non mi ringrazio neanche ma no però sembra che sia una captazione di benevolenza visto che io ormai ci litighiamo permanentemente un litigio strutturale ormai e ringrazio tutti voi di essere stati qua e spero di ritrovarmi sul prossimo sulla prossima iniziativa sulla storia su Gattetti come storico spero si faccia grazie a tutti grazie grazie mille grazie a Carlo uno che ha curato questo libro bellissimo grazie agli ai curatori redazionali nonché autori del volume grazie all'editore che ce l'ha pubblicato grazie agli autori che che hanno contribuito è stato veramente molto appassionante come puntata dei liberi libri e ci diamo appuntamento alle prossime puntate dei liberi libri ma anche e questo lo prendo come impegno ufficialmente a una alla puntata su Gattetti storico che eh boh cui credo di poter e voler soprattutto contribuire molto volentieri anche con gli auspici che diceva prima Paolo Mellano sul sugli archivi in biblioteca grazie mille grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti